Patrizia Borgarello è stata lei a presentare l'esposto al TAR per l'elezione di Sergio Chiamparino a Presidente della Regione Piemonte sulla base di alcune firme che lei ha detto potrebbero essere illegittime. In questo momento si sta aspettando la decisione del TAR del prossimo 9 luglio. Qual è il clima che si respira? Ci sono state molte notizie su questo argomento nell'ultimo periodo. Sì, certo, grazie all'esposto che ho fatto, che abbiamo fatto, perché poi comunque sia la collaborazione è stata anche di altre persone abbiamo spulciato, perché così possiamo dire, tutte quelle che erano le firme vedendo delle cose anomali. La cosa più semplice che era la mancanza di un timbro a delle firme, 370 firme prese dalla stessa persona nello stesso giorno a Torino e nel Canavese, che materialmente è impossibile, anche solo diviso il numero delle firme rispetto alla giornata, come autentiche che erano dubbie. E quindi abbiamo fatto un esposto. Il 9 luglio il TAR si dovrà esprimere, ovviamente tenendo presente il fatto che una parte della documentazione che è stata richiesta dal TAR è stata consegnata dalla Procura della Repubblica e di conseguenza gli atti che noi avevamo chiesto sono ufficiali. Detto questo, ovviamente non è un compito del Tribunale Amministrativo, perché è un amministrativo. Tutto ciò potrebbe essere verificato esclusivamente dal Tribunale Civile e dalla Procura della Repubblica. Di conseguenza il Presidente del TAR il 9 luglio si dovrà esprimere rispetto all'amministrativo. Il discorso che noi portiamo avanti è il fatto di dire che Chiamparino disse circa due mesi fa, anzi dopo la prima udienza, che lui non sarebbe rimasto sulla graticola e che di conseguenza se in caso il 9 luglio fosse rinviato lui si sarebbe dimesso. Attendiamo di capire quello che farà il TAR sotto l'aspetto amministrativo e sotto l'aspetto politico se Chiamparino tiene fede a ciò che dice. Dal punto di vista politico, appunto, come esponente della Lega Nord, che cosa si aspetta che accada davvero? Beh, io mi aspetto che accada giustizia, perché questo discorso, questo esposto è stato fatto per fondamentalmente un principio etico e morale. Cioè noi siamo stati attaccati per quattro anni su di una firma, secondo loro poi risultata così falsa, di una persona che si era candidata e siamo stati messi, diciamo così, come coloro i quali avevano accettato liste, fasulle, tarlocche, tutti i nomi che hanno usato. Allora io dico due pesi e due misure nella giustizia non ci sono. Se prima c'è stato un errore per quello che riguarda il centrodestra e che quindi il Presidente della Lega ha dovuto andare a casa, io credo che questo debba valere anche per un Presidente di centrosinistra dove a conti fatti e ovviamente in attesa che la Procura si esprima, anche perché ricordo che tutta la documentazione è sotto sequestro e quindi noi abbiamo fatto sì resistenza al TAR anche se non eravamo tenuti a farla, perché io sono una cittadina, non ero una candidata, quindi devo portare la documentazione. Detto questo io mi aspetto che la giustizia sia una giustizia unica, per tutti uguale, quindi se queste firme risultano nulle, se i moduli non sono come devono essere fatti, questo deve valere anche per Chiamparino. Quindi Chiamparino da Sabaudo qual è? Ha detto che se le firme risultassero false o ci fosse qualcosa di irregolare io mi dimetto, questo credo che debba fare, oltre al fatto che la giustizia deve fare il suo corso e ci aspettiamo che questo faccia.